Lungo il tuo viaggio, destinazione Export, è importante conoscere l'affidabilità dei partner, così da muoversi in sicurezza ed evitare inconvenienti spiacevoli. Scopri con noi il passo numero 5 del viaggio dell'esportatore. Negozia il tuo contratto commerciale. Su export.gov.it potrai ricevere informazioni riservate su imprese estere, oltre a strumenti utili per sapere se le controparti sono affidabili nel rispettare i propri impegni commerciali. Aprirsi all'internazionalizzazione d'impresa può essere rischioso, ma se assicuri il credito con le giuste soluzioni, aumenterai la competitività dei tuoi prodotti e servizi, offrendo delle dilazioni di pagamento ai tuoi clienti. Una scelta vincente quando operi in mercati esteri. Naviga il portale export.gov.it e scopri i prodotti a misura del tuo business. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS